Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, se vedete questa cosa in testa non vi preoccupate perché questo è un video un po' particolare, lo so rito da sola, sono come in un certo senso in partita perché sto per fare un video molto diverso da quello che avete visto, praticamente io ho chiesto a una persona di farmi da assistente, questa persona metterà delle sigle dei cartoni animati, io su questi bigliettini devo vedere se riesco a indovinare la canzone, se la indovino non succederà niente, ma se per caso non la indovino e sbaglio o perlomeno metto passo, nel senso che non la so, riceverò una punizione, ecco perché mi serve questa cosa in testa. non la so proprio, ora mi tocca la punizione non la so proprio, ora mi tocca la punzione, ecco perché la punizione è stata è la mia moglie non è mio, con l'ecchiazio è la mia moglie ummm, salato ova, ova, ova ova, ova, ova cazzo, quindi dovrei avere la quarta punizione bene ragazzi, il video finisce qua se volete vedere il video di questo genere basta che me lo fate sapere nei commenti e ci rivediamo prossimamente